Ciao a tutti. Ho aderito anch'io all'esposto epocale. Aspettiamo da magistratura le risposte sincere, chiare alle domande dell'esposto epocale. Per il nostro futuro, per la nostra dignità, per una vita serena ai bambini, per il rispetto alla Costituzione italiana e per tantissime altre cose che servono per la pace, armonia e libertà su questa pianeta Terra. Aderite anche voi su www.espostoepocale.it. Vi auguro un grande successo.